La stampa 3D di ultima generazione, anche conosciuta come Binder Jetting, permette di realizzare anime e stampi estremamente complessi e con sottosquadri, in tempi notevolmente inferiori rispetto ai processi di modellazione tradizionali, senza particolari limiti dimensionali e con effettiva capacità di produzione. Un esempio dei vantaggi della stampa 3D Binder Jetting nel settore delle anime è rappresentato da questo oggetto, che data la sua complessità non potrebbe essere realizzato in un pezzo unico utilizzando le tecniche di modellazione standard. Tutta la serie di elementi visibili all'interno, con processi tradizionali, dovrebbero essere progettati e prodotti a parte e solo successivamente incollati insieme, con un processo molto più lungo ed oneroso a livello economico. Realizzando quest'anima con il supporto del service Corsa 3D, abbiamo eliminato le principali criticità legate ai sottosquadri e alle giunzioni, ottenendo in un unico ciclo di lavoro un pezzo singolo con un risparmio di tempo molto elevato e con una precisione garantita entro i canoni previsti per la fonderia. La possibilità di effettuare anche forature interne ai condotti per lo sfogo dei gas è un altro esempio di quello che la tecnologia additiva permette nel settore della fonderia. Qui è visibile un secondo esempio di assemblaggio funzionale. Due gusci realizzati con gli elementi interni che possono essere assemblati con precisione per permettere l'utilizzo del prodotto completo. I componenti di quest'anima sono stati realizzati con sabbia silicea e cerabet, il guscio con un tipo di sabbia, ed i componenti interni con l'altra. Come visto negli altri esempi, l'additive manufacturing permette di raggiungere forme complesse ed articolate in un unico pezzo. Questo è un ulteriore esempio delle capacità e delle potenzialità del service Corsa 3D. Forme sempre scomposte in tradizionale, si possono oggi riunire in un'unica forma e nonostante la presenza massiva di sottosquadri, è possibile realizzare un oggetto molto preciso e pronto ad essere inviato e lavorato in fonderia. I sottosquadri presenti sono notevolmente complessi e in questo caso specifico l'attività più delicata è quella di garantire una pulizia del prodotto anche in presenza di numerose fessure e canali poco accessibili. Con l'assistenza del cliente è stato possibile realizzare delle finestre che consentono all'operatore di pulire in maniera completa l'intero oggetto. Vediamo ora la tecnologia del service Corsa 3D in azione. Oggi il service Corsa 3D è utilizzato dei principali produttori del prodotto. nazionali nel settore aeronautico, automotive, racing, energia e fluodinamica.